Un nuovo appuntamento con il nostro notiziario sportivo in apertura di questa edizione. Spazio subito all'Arezzo e alla prossima partita che i Amaranto disputeranno, la partita di Pineto che verrà diretta da un arbitro donna. È la quarta volta che accade, la seconda in Serie C e il fischietto designato è già nota alle cronache nazionali. Tocca per la prima volta in questa stagione ad un fischietto donna dirigere una partita dell'Arezzo. Domenica prossima Pineto è stata designata Maria Marotta di Sapri che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Collu di Oristano e Sicurello di Seregno. La Marotta non è certo un nome nuovo delle cronache calcistiche nazionali. Infatti fu la prima donna a dirigere una partita nel campionato di Serie B. Nella stagione precedente venne nominata ad arbitrare Regina Frosinone. Fa parte dell'organico della CanCi ma grazie ad una norma può dirigere nella categoria superiore e anche internazionale di calcio femminile. Per l'Arezzo comunque non è la prima volta di una direzione femminile. Nella stagione 2011-2012 era capitato nella partita interna con il Todi in Serie D. Toccò la signorina Giovanna Farinelli di Roma. Poi in Serie C sempre il comunale nel confronto con il Savona con la direzione di Silvia Thea Spinelli. L'ultima volta fu a Monte Spaccato con Di Lamezia Terme nella stagione scorsa quando l'Arezzo riacciuffò il pareggio nelle battute finali della partita. Alessandro Renzi è stato ospite di Sottorete. Buona occasione per sentire le sue sensazioni. Il ragazzo è stato lontano per problemi di pubalgia che ora sono stati superati. Alessandro Renzi, ospite negli studi di Teletruri. Allora, intanto sei uno dei giovani più promettenti della covata Maranto. arrivi dal vivaio dell'Empoli che è una scuola di calcio di vita. Come è il tuo approccio con l'Arezzo visto che sei a questa stagione importante? Sì, sono arrivato quest'anno. Il salto dalla primavera a questo campionato non è stato facile, però fin dai primi giorni mi sono subito trovato bene. a mio agio, i compagni mi hanno fatto sentire bene e mano a mano è passato il tempo sempre meglio, quindi bene dai. Ti sei adattato anche a una nuova dimensione tecnico-tattica? Sì, sono sempre stato impiegato nel ruolo di terzino, però come ho sempre detto in ogni ruolo che il miss mi piegherà cerco di fare il mio meglio e di dare il massimo. Il bilancio di questa avventura Maranto? Ti direi fino adesso positivo, a parte qualche infortunio che non ho avuto in questa mia verissima carriera, è abbastanza bene. Adesso le tue condizioni come sono? Sì, ora finalmente sto bene, devo ritrovare un po' la condizione che stando fermo un po' di tempo mi manca, però dai sto bene. E adesso cosa ti proponi per questo finale di stagione? Noi dobbiamo prendere questi punti per consacrare questa salvezza e poi dobbiamo cercare di togliere una soddisfazione a società, a tifosi e a noi stessi. Adesso rivediamo tutti i gol del ultimo turno di campionato in Serie C. La giornata si era aperta con il successo del Perugia, a spese dell'Ancona, un calcio di rigore di Lisi ha portato in vantaggio il Grifo che raddoppia poco dopo con pass. Marchigiani sempre più nelle sabbie mobili del girone B della Serie C. Basta una rete di Di Santo per fare sorridere la lucchese. Olbia sempre più nei guai. Vittoria pesante della spalla sul Rimini, un'autorete spiana la strada agli estensi nella ripresa il raddoppio di Antenucci. Il difensore Gigli riporta in quota il Rimini, ma chiudere le speranze dei romagnoli ci pensa. Tripaldelli. La Torres continua a rugire, l'entella è costretta a cedere il passo. Ruocco, la fine del primo tempo, porta in avanti i sardi che vengono raggiunti nel finale da Peterman. Ma proprio in zona Cesarini, ancora Ruocco porta alle stelle la formazione sarda che consolida il secondo posto. Botta e risposta da tra la Juventus, Dengene e Pontedera. Bianconeri subito sotto per un'autorete. Il solito secolo rimedia a metà del primo tempo. Pareggio tra Fermana e Pineto. Germinaro porta in vantaggio gli abruzzesi. Immediata la replica della squadra di Andrea Mosconi e il suo esordio che pareggia con Petrungaro. L'Arezzo piega la Vispesaro. Chiosa ci mette alla testa nel primo tempo. Nella ripresa, Guccione si inventa un gol dei suoi. La rete di Di Castro rianima la Vis, ma alla fine la festa è dell'Arezzo. Il sesto rilevante piega la Re Canatese. Tutto nella ripresa. Prima in verrete Candiano. Ogliana completa la festa dei Liguri. Chiude la bella partita di Cesena. Adamo, inizio ripresa, si inventa un golazzo. Il Gubbio cerca di fare male alla capolista, ma capitolo ancora con la ventesima rete stagionale di Spendi. Il massimo dirigente del settore giovanile dell'Arezzo commenta in maniera molto dura il fatto di Pontedera al termine di una partita del settore giovanile dell'Arezzo con la squadra Granata. Calcio giovanile e i fatti di Pontedera hanno suscitato grande indignazione. Durissime le parole del direttore generale del settore giovanile dell'Arezzo, Paolo Bertini. Non si tratta solo di stigmatizzare, si tratta di metterci veramente un alert importante. Non possiamo consentire che succedano queste cose. Quindi riuniremo i genitori di quel gruppo di ragazzi, quindi i genitori di quella squadra, ma riuniremo anche e passeremo il messaggio a tutti i nostri staff, al nostro quadro dirigenziale e a tutti i genitori. Non sono più consentite queste cose. Nel nostro settore giovanile, soprattutto nella scuola calcio, questo tipo di atteggiamenti non possono più essere tollerati. È difficile poi entrare nell'episodio che poi ci perderemo nel gioco delle ripicche, però sta di fatto che il calcio giovanile ha bisogno di altri messaggi. Assolutamente, non sono questi i messaggi. Mi metto nei panni dei bambini, dei ragazzi che hanno vissuto questo momento. Sono robe che non possono essere presenti in assoluto nel calcio, ma sicuramente non nel nostro settore giovanile. Rischia di diventare un giallo la sede di Sansepolcro San Giovannese, valida come decima di ritorno nel girone E della Serie D. Infatti, la società bianconera è alla ricerca di uno stadio per disputare questa partita che vale mezza stagione. Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate il Buitoni e le partite che verranno disputate in campo neutro si dovranno giocare a porte chiuse. Nel circondario non c'è un campo disponibile e alle 19 di questa sera ancora non era stata trovata una soluzione. E domenica prossima in Valtiberina in programma anche una partita di grande richiamo. Infatti, ad Anghiari arriverà il Siena che vincendo conquisterà la sicurezza matematica della vittoria in eccellenza e il conseguente ritorno in Serie D. Almeno 300 i tifosi al seguito. La società bianco-verde ha esortato i sostenitori della Baldaccio Bruni a recarsi a piedi allo stadio. Stagione finita per Federico Pippi il giocatore del club Arezzo punta di diamante della squadra che attualmente è in testa alla classifica del campionato regionale di Serie C si è procurato la frattura del legamento del ginocchio sinistro della partita giocata e vinta la rufina domenica scorsa. È stata una vittoria amara per il nero Amaranto. Lo schiacciatore ha avuto problemi nella ricaduta dopo un attacco. dovrà operarsi e come minimo saranno sei i mesi di stop. Un infortunio simile a quello del giocatore di basket della SBA Fornara capitano proprio nel finale di stagione. Questa era la nostra ultima notizia. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Teletruria.